Quali sono gli errori più comuni che si commettono nel momento in cui registriamo video con il nostro telefono? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti su smartphone video marketing. Io sono Manabi e come ogni giovedì alle 14 siamo qui per cercare di comprendere come realizzare dei video ancora più efficaci e ancora più professionali utilizzando il nostro smartphone. Mi raccomando per non perdervi neanche un video di quelli che pubblichiamo iscrivetevi al canale cliccando il pulsante rosso e attivate la campanella in maniera tale da ricevere immediatamente le notifiche. Ma andiamo subito e buttiamoci in questo video. Di errori ce ne sono tanti ce ne sono diversi ma per questo video ne ho raccolti 7 da mostrarvi che sono tra i più comuni e quelli che più frequentemente si vedono. Partiamo dal primo innanzitutto la batteria. Ragazzi la batteria è importante che sia carica ok perché? Perché trovarsi a metà della ripresa con la batteria che si scarica e il telefono che si spegne non è una bella esperienza anche perché è fastidioso dover rifare il lavoro che abbiamo già fatto magari e soprattutto se abbiamo parlato magari per diversi minuti. Non solo è vero qualcuno mi potrà dire che è possibile collegare un power bank esterno ma se sto utilizzando un microfono esterno come anche in questo caso collegare un power bank esterno vorrebbe dire innanzitutto avere uno sdoppiatore che mi dà l'opportunità di collegare due accessori alla stessa porta. Allo stesso modo nel momento in cui il telefono è in carica il telefono in qualche modo si surriscalda andando potenzialmente a compromettere la miglior resa del nostro hardware quindi potrebbe abbassare le performance di registrazione del nostro telefono appunto. Seconda cosa fondamentale è il fatto di avere il telefono in modalità aereo e anche in modalità non disturbare oppure andando a disattivare il wifi e il bluetooth. Perché? Perché la modalità aereo ci permette di evitare le chiamate in ingresso che potrebbero interromperci il video ma se attiviamo solamente la modalità aereo tenendo attivo wifi e bluetooth le chiamate che potrebbero arrivare da telegram, da whatsapp, da skype e da tutta questa tipologia di servizi potrebbero passare lo stesso interrompendoci nuovamente il video. Quindi se abbiamo la necessità di mantenere il wifi attivo per esempio perché stiamo utilizzando filmic remote che è quell'app che ci permette di monitorare e gestire il telefono principale che sta registrando con filmic pro ecco dobbiamo ricordarci di mettere anche il non disturbare in maniera tale da tagliare tutte quelle chiamate che potrebbero arrivare da quei servizi internet di cui ho parlato. Errore frequentissimo soprattutto nei video selfie è il fatto di non guardare in camera ma di guardare lo schermo. Guarda qual è la differenza io adesso sto guardando lo schermo per verificare che l'inquadratura sia corretta eccetera eccetera ma ti rendi conto di quanto è fastidioso? Non riesci a capire dove io sto guardando se io stia guardando effettivamente in camera se io stia guardando verso il mio pubblico o se sto guardando da un'altra parte per cui la cosa fondamentale è settare il telefono controllare nello schermo se l'inquadratura è corretta e di conseguenza incominciare a guardare in camera per tutta la durata del nostro video. Se soprattutto all'inizio ti viene difficile continuare a guardare in camera il suggerimento che ti do è di coprire lo schermo del telefono durante la fase di registrazione in maniera tale da non avere la tentazione di continuare a girare la testa per guardare se l'inquadratura è quella corretta. Altro errore frequentissimo è il fatto di avere il telefono troppo basso rispetto a noi stessi quindi nella classica posizione per esempio della webcam dei computer portatili si vedono un sacco di video in rete con questi telefoni appoggiati magari sulla scrivania o su un cavalletto basso con questa inquadratura che va dal basso verso l'alto nel riprendere la persona oppure ancora ancora più frequente vedere i classici video in modalità selfie col telefono tenuto in mano sopra la nostra testa e iniziare a riprenderci in questa maniera. Ora non sto dicendo che queste due tipologie di inquadrature sono completamente sbagliate possono essere corrette nel momento in cui sono in quadrature di alcuni secondi per enfatizzare una determinata tipologia di messaggio ma nel momento in cui stiamo parlando per diversi secondi diversi minuti come sto facendo io in questo momento di fronte alla camera la cosa migliore è posizionare la camera leggermente più in basso dell'altezza dei nostri occhi in maniera tale che nel momento in cui guardiamo la camera è come se stessimo guardando leggermente verso il basso per cui se l'altezza dei nostri occhi è questa altezza la camera sarà leggermente più bassa in maniera tale appunto da dare questo effetto. Questa è l'inquadratura la posizione corretta della nostra fotocamera. L'audio ragazzi non mi stancherò mai di dirlo lo ripeterò centinaia e centinaia e centinaia di volte l'audio è fondamentale consideriamo che noi innanzitutto i video li ascoltiamo non so se vi è mai capitato a me un sacco di volte di magari ascoltare una guardare una serie televisiva piuttosto che un film piuttosto che un altro programma un video su youtube e intanto che il video sta girando noi stiamo facendo delle altre cose magari stiamo preparando la cena piuttosto che stiamo sistemando qualcos'altro in casa o cose di questo tipo per cui l'aspetto principale è l'audio se l'audio è un audio di buona qualità allora il video sarà percepito come un video di qualità se l'audio è di pessima qualità non ci siamo proprio per cui la cosa migliore è o dotarsi del microfono esterno come sto facendo io in questo momento o se proprio non abbiamo un microfono esterno cercare di registrare in un luogo silenzioso e stare quanto più vicini possibili al telefono in maniera tale da garantirci l'audio migliore possibile altra cosa fondamentale errore frequentissimo è il fatto di non impostare in manuale l'esposizione e il fuoco quindi vedere questi video realizzati col telefono in cui c'è questo continuo sfarfallio e cambi cambi di luce che continua è come se avessimo un video lampeggiante questo succede perché l'esposizione e il fuoco non vengono messi manuale vi faccio vedere qual è la differenza tolgo esposizione e fuoco dal manuale e guardate se io avvicino che cosa succede avvicino il dito avvicino la mano vedete come cambia vedete come cambia la luminosità cambia e si crea questa tipologia di effetto che non va assolutamente bene per cui ricordiamoci sempre di mettere in manuale sia l'esposizione che il nostro fuoco ultima cosa che vedo spesso e volentieri è la scarsa illuminazione ora i nostri telefoni riescono a registrare con delle risoluzioni incredibili con dei frame rate incredibili quindi fotogrammi per secondo incredibili registrano in 4k registrano a 240 fps cose veramente incredibili ma hanno un enorme punto debole oltre va bene a tanti altri se li paragoniamo alle fotocamere ma il punto debole principale è il fatto che soffrono in una maniera spaventosa della scarsa illuminazione per cui ci dobbiamo assicurare di avere sempre una buona illuminazione perché altrimenti guardate questo video in questo momento ma se io spengo le luci come ho fatto in questa maniera vedete che l'immagine cambia notevolmente abbiamo un'immagine più buia io è vero che in questo momento ho una finestra davanti a me ma sicuramente anche in queste condizioni il nostro telefono inizia a faticare e con questo e con il mio raffreddore che sicuramente avete sentito in questo video il video è veramente finito ci vediamo giovedì prossimo alle 14 e vedremo insieme qual è la guida definitiva quali sono i passi definitivi per realizzare un video maggiormente efficace con il nostro smartphone salute